buon ciao raga benvenuti per una nuova puntata dal vostro nonno della rete per il mio format che vi manga oggi andremo a parlare di un manga molto simpatico sfizioso che un genere che preferisco che sarebbe quello delle mazzate raccecata con una trama non troppo sofisticata sto parlando di zodiac world della jpop come vedete qui ho il copanetto e qua ho i volumi singoli così per farvi pure vedere un po all'interno la storia è trattata da una light novel di Nisio Isin come poi lo sapete la pronuncia dei nomi giapponesi è sempre un po complicata ho i character design dei personaggi sono dati da Hikaru Nakamura mentre il disegno è di Akira Akatsuki allora iniziamo dalla storia zodiac world è una battle royale con protagonisti i segni zodiacali cinesi 12 persone prescente sotto il corrispettivo segno zodiacale tra cui come vedete i personaggi assomigliano molto a il segno che devono interpretare guardate il coniglio il topo e poi il video ve li elenco nel momento giusto ogni 12 anni si come si può dire si effettua questo tipo di guerra dove il vincitore può esprimere un desiderio è una guerra sanguinaria fino solo solo uno può vincere allora vi dico qualcosa che non fa parte di uno spoiler dato che ciò che vi andrò a dire il fumetto ve lo ripeterà tipo una decina o una dozzina di volte a personaggio perché ogni personaggio ogni volta che inizia o una conversazione o un combattimento si presenta con tutto il papello appresso guerriero del cane Dotsuki colui che uccide a morsi guerriera della scimmia Shiryu con lei che uccide pacificamente e questo avanti quindi ogni qual volta due o più personaggi si presentano o si incontrano prima di sfinarsi fanno sempre questo guerriero del cavallo Uma colui che uccide in silenzio guerriera del cinghiale Inono Shishi con lei che uccide all'eccesso tutti i personaggi colui che uccide in massa Nezumi del topo Ushii del bue colui che uccide e basta Usagi il guerriero della lepre colui che uccide in modo avverrante i due fratelli il guerriero del drago e del serpente Tatsumi tutte e due uno è fratello maggiore e un altro è minore colui che uccide per futili motivi poi c'è la capra c'è il gallo e la tigre perciò qua ogni personaggio interpreta diciamo un ruolo come per dire la scimmia colui che con lei che uccide pacificamente non ha nemmeno molto significato come lo fa notare un altro personaggio tutti i personaggi hanno ovviamente delle skill delle super mosse o sono addestrati in qualcosa l'unica parte diciamo che un po' mi ha scocciato nelle c4 fumetti sono i lunghi flashback per farci diciamo conoscere approfondire un po' il personaggio però alcuni non so nemmeno niente di che quindi forse quello che mi è piaciuto di più è la storia del gallo principalmente questi flashback sono molto alla Holly e Benji perciò durante il combattimento iniziano questi flashback con un'altra struttura di design molto fatto vedere molto più chiaro rispetto ai disegni scuri durante il combattimento dove ognuno ha dei ricordi ha un motivo per combattere o per vincere per esprimere un desiderio comunque sia dopo tutto il fumetto veramente molto scorrevole molto simpatico i combattimenti non sono tanto lunghi si si dividono sempre un paio di colpi tranne qualche colpo di scena quindi come ho detto all'inizio i volumi sono 4 5,91€ ovviamente ovviamente sono editi dalla Jpop mentre il box è di 23,60€ con tutto il box sempre quattro volumi concludendo Zodiac War Juni Tizen sono quattro volumi è di design Jpop 5,90€ volume altrimenti tutto il box 4 23,60€ Odessamente ve lo consiglio se vi piace il genere molto come si può dire si sanguinario e combattimenti come ho detto all'inizio mazzate alla ciecata i capelli a zero se vi piace questo tipo di genere ve lo consiglio tanto e in più vi voglio dire che ogni qualvolta casomai andasse a leggere il manga ogni qualvolta che voi pensate che chi è il vincitore perché poi è l'autore che vi fa diciamo capire qualcosa dopo un po' lo stesso autore vi distruggerà quel pensiero perché casomai il personaggio che voi pensate che sarà il vincitore molto molto aiutatemi dall'altra parte molto probabilmente morirà detto questo vi lascio una chicca se controllate bene tutte le copertine forse se siete avete occhio riuscite a capire chi è il vincitore però quello che vi consiglio da amante dei manga leggetevi prima tutti e quattro i fumetti e poi andatevi a sbirciare tutte e quattro le copertine e poi direte il nonno ha ragione perciò leggete il manga fatemi sapere se vi è piaciuto sotto nei commenti mi piace al video se vi è piaciuto il video scrivete se avete da richiedere qualche altro tipo di manga ogni settimana cercheremo di farvi uscire una bella recensione di qualche manga simpatico oltre che prima o poi tratterò anche i classici supportatemi vedete in descrizione tutti i link oppure per supportarmi Instagram e Facebook raga dopo questo bel manga il nonno colui che se ne vuole andare a casa vi saluta e vi aspetterà al prossimo video ciao